E come promesso è tornato a trovarci e nei nostri studi, è venuto anche perché è molto devoto a Padre Pio quindi per come dire venire a trovarlo però è passato anche nei nostri studi perché ha scritto tanti libri, lui è fra Emiliano Antenucci che davvero ringraziamo di cuore per essere con noi anche questa settimana, grazie, pace bene, fra Emiliano abbiamo detto che comunque sei venuto a San Giovanni l'occasione dei libri anche per venire a fare un saluto a Padre Pio, una preghiera a Padre Pio, ecco quindi noi veniamo in un secondo passaggio però è sempre un piacere averti con noi, questa settimana vogliamo parlare di tre libricini dedicati all'invidia, veleno mortale, chi calugna uccide, anche le parole possono uccidere e non sparlare degli altri, la raccomandazione di Papa Francesco, tre libri che sono legati al primo che tu hai scritto, Il cammino del silenzio, va de me con per cercatori di felicità, poi dovrai tornare magari un'altra settimana e parliamo di tutti i libri che hai scritto perché sono davvero tanti e fonte inesauribile di spunti di riflessione. Allora, è fatta editrice, ha pubblicato questi quattro libri, io mi soffermerei su questi tre, non sparlare degli altri, è una parola? Ma questo è un suggerimento di Papa Francesco perché c'è proprio la scritta che lui ha messo dietro la Vergine del silenzio, non sparlare degli altri, ho voluto scrivere questo libro non tanto per fare un libro moralistico, questo è importante, ma per dire che ogni uomo è bello perché è immagine di Dio, della bellezza, quindi tutte le volte che noi sparliamo degli altri, sporchiamo l'immagine della bellezza che c'è nell'altro, quindi con le parole possiamo sporcare l'immagine dell'altro. E poi il pettegolezzo, la mormorazione, ci sono pure degli scritti molto belli su Padre Pio, lo vediamo come una peste, sia in mezzo ai frati, in mezzo al clero, ma è uno sport mondiale questa cosa qua, quindi in tutte le situazioni e in tutti i luoghi, con le parole noi possiamo donare luce o donare tenebre, la parola, l'importanza della parola, una mia amica scrittrice, Sonata Amaro, diceva che la parola è un seme, noi buttiamo. Da piccolo, come tutti i bambini, andavo in un lago dove c'erano i pesci, allora sappiamo bene, se tu butti le molliche, i pesci stanno più insieme, c'è armonia, c'è unione. Se tu butti i sassi, si crea divisione, così anche le nostre parole e le nostre azioni. Se noi doniamo delle parole e delle azioni di bene, creiamo armonia, pace, unità. Se le nostre parole e le nostre azioni sono di male, ma le dicono, cioè dicono male e non benedicono, non dicono bene, creano divisione. Ecco perché Papa Francesco lo vede come un terrorista, una bomba, una persona che sparla di un altro. Poi la calugna è peggio ancora, la calugna è ancora peggio, perché tu ti inventi qualcosa, infanchi, cioè sputi veleno all'altro, magari per coprire le tue magagne. Quindi è molto usato, non solo negli ambienti chiese, negli ambienti politici, negli ambienti economici. Quindi infangare una persona, infangare una persona per coprire i propri sbagli. L'altro vizio è l'invidia. L'invidia, l'invidia io rossico, tra virgolette, della felicità dell'altro. Invece saper gioire della gioia degli altri. Gareggiatemi nello stimarvi a vicenda, dice San Paolo. Bello, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Dobbiamo correre, io devo correre, che Paolo è una brava conduttrice giornalista. Io devo correre, che un mio confratello o quel sacerdote sa fare questo che io non so fare. Invece che succede? Quello sa fare una cosa, io non lo so fare. Allora l'invidioso cos'è? Si rinchiude, è triste e poi sputa veleno. Invidia, dice la stessa parola, io non vedo l'altro. San Francesco fa una lettura molto bella del peccato dell'invidia. Dice quando io sono invidioso di un fratello, sono l'altro di Dio. Tenendo presente che Dio è il sommo bene, a ognuno di noi dà dei doni. Quindi nel momento che io sono invidioso di un fratello e di una sorella, sono invidioso di Dio che agisce in quella persona. Guardate che lettura stupenda. E quindi divento il ladro di Dio. Bella anche questa, ci hai dato davvero due spunti di riflessione molto interessanti. Allora, hai detto che questi tre libri sono collegati appunto alla Vergine del Silenzio. è bellissima questa icona. È stupenda. E ti posso chiedere... È stata fatta fare dieci anni fa da me, commissionata dalle monache dell'isola di San Giulio. È questa madonna che ci dice con una mano, fermati, dove corri? Prega e spera, non agitarti. Diceva padre Pio. Quindi fermati, dove corri? In un mondo agitato è tutto un fast. Fast web, fast food. Viviamo nel mondo fast, invece è un po' slov, dovremmo fermarci. Fermati perché, dicevo, mistico il cielo è dentro di te. Ma io aggiungo anche fuori di noi, perché molte volte stiamo tutti con i smartphone e non vediamo anche il cielo che sta fuori di noi. Quindi fermati con una mano. E poi l'altra mano ci indica il cielo. Non è una madonna che ci dice silenzio, obbligante. È una mano un po' di... come fanno i bambini, di meraviglia, di imbarazzo, ma che ci indica il cielo. Come a dire che la madonna è l'autostrada per arrivare subito a Gesù e che ci indica il cielo. Perché lei, nella spirituale ortodossa, è proprio la madonna della via. C'è questa cosa molto bella. È la madonna che ci dà la via e l'autostrada per arrivare prima a Gesù e al cielo. E allora il silenzio potrebbe essere, come dire, un'arma per non soccombere all'invidia, per non sparlare agli altri, per non tagliare. Il silenzio è una sospensione del giudizio. Ma il problema, dice, noi dobbiamo parlare o tacere? Sant'Agostino, nel commento alla prima lettera di San Giovanni, dice, se parli, parla per amore. Se taci, taci per amore. C'è un momento per parlare, un momento per tacere. E l'amore ci fa comprendere se in una situazione dobbiamo parlare o tacere. Dacci qualche altro spunto di riflessione. Ad esempio, questo libro, Non sparlare degli altri, la raccomandazione di Papa Francesco. Prima ti ho detto, è una parola non farlo. Come si fa? Cioè, quando ci rendiamo conto che il nostro essere umano ci porta a dire qualcosa di negativo nei confronti di una persona, di un nostro fratello, di una nostra sorella, che cosa è la prima cosa che dobbiamo fare per non soccombere? Allora, io non mi sono limitato a fare le analisi, perché ogni libricino ha anche rimedi. Ecco, appunto. Questo è importante. Quindi non è, dice, come si evita per sparlare gli altri. Inoltre tutto, uno si deve mordere la lingua. Guardarsi allo specchio, guardare la natura, guardare i poveri, guardare anche tutte le cose positive che ci sono negli altri. Noi diciamo, quello è così. Quello è così. Noi vediamo solo il peccato e l'errore. E questa è una piccola parte di questa persona. Ma dobbiamo vedere le persone nella totalità, perché magari quella persona ha dei carismi, ha dei talenti, che noi siamo accecati dall'invidia, accecati dalla calugna e non vediamo. Quindi anche vedere le cose positive. E la spiritualità francescana e la spiritualità dell'ottimismo è nel vedere proprio le cose positive che Dio fa in tutte le persone, in tutte le cose. Senti, concludo chiedendoti, tu hai un legame particolare anche con il Papa, con Papa Francesco? Posso dire un'amicizia. Un'amicizia, ecco. Che è un dono di Dio, che non ho voluto io, ma ecco è stato questo fulmine che è venuto dal cielo e Papa Francesco è sempre di questi libretti. Il primo libretto, 8.000, ne ha comprati e l'ha dato a tutti i cardinali, anche ai vescovi, a tutti i dipendenti vaticani. L'altro libretto 3.000, l'altro libretto 2.000. Quindi sono i libretti che lui ha nel suo studio, nella scrivania e regala a tutti. Posso dire una cosa, incontrare Papa Francesco si fa un'esperienza del cielo, perché è una persona straordinaria ed è una persona empatica, che ti entra dentro. Prima che parli già lui ti capisce e entra dentro nelle tue gioie, nelle tue sofferenze. La prima volta che l'ho incontrato, il 22 marzo, da soli, siamo stati un'ora a parlare, nel Palazzo Apostolico, per la Vergine Silenzio. Quindi io ho fatto un'esperienza di cielo. Hai presente quando tu devi chiedere una cosa a una persona e lui già ti risponde, ho fatto questo. E sembrava che lui mi conosceva da una vita. Lui mi ha detto poi, ti ho guardato negli occhi e dentro gli occhi ho visto la sincerità, così mi ha detto. Questo guardarti negli occhi. Papa Francesco, ti attento, ti guarda negli occhi e poi gli entri nel cuore. E quindi si è creato questa cosa, questa amicizia che mi ha chiamato anche tante volte al cellulare. una volta c'era mia madre per dare la benedizione. L'ho incontrato tante volte, anche mi ha chiesto delle collaborazioni con lui. E dico, dobbiamo pregare tanto per questo Papa. Perché si sparla troppo del Papa. Si parla e si sparla troppo del Papa. È il vicario di Cristo, è il Papa che il Signore ci ha dato in questo momento delicato, storico, sia del mondo che anche della società. Stiamo vivendo. È sempre edificante incontrarti, Fra Emiliano, davvero. Grazie per essere tornato nei nostri studi. Grazie per averci parlato dei tuoi libri. E ci auguriamo, tanto lo sai, ormai le porte sono aperte, la strada la conosci. Quindi prossimo libro, prossime pubblicazioni, questo studio ti aspetta per tornare a parlarne. Grazie di cuore per essere stato con noi, grazie ai nostri amici per averci seguito. Tra le righe torna la prossima settimana. Grazie a tutti.